Come si dice, gol mancato, gol subito? Ed ecco subito applicato da Maradona la regola. L'assist è di Renica, troppo dimenticato, da chi sui taccuini ha il dovere di segnare i nomi dei giocatori migliori del campionato per le squadre nazionali. In mancanza lo facciamo noi. Sì, sono passato dal normale, perché sempre facevano due punti e oggi ho fatto tre. No, nel secondo tempo, una palla che la colpisco di testa e Pellegrini veniva per rinviare. Ha stato un calcio senza volere perché lui andava la palla, io l'ho anticipato e niente. Niente, niente perché si può succedere in una partita...